Ciao ragazzi, quest'anno dovrete andare alle scuole medie, quindi ve ne consiglio una speciale, la Nardi. Io ho scelto la Nardi per i fantastici metodi di studio, la bravura dei docenti, ma soprattutto per i laboratori. Quindi scegli il medio, scegli la Nardi, ti aspetto. Non saprei proprio dove scriverne alle medie. Lo so io dove potresti scrivere. Alla Nardi, la scuola in cui ci sono molte attività, istruttive e creative, da noi di sicuro ti divertirai. Certo, vero di sicuro, studierò e mi divertirò. Cosa aspettate? Iscrivetevi alla Nardi e ricordate che non è mai troppo tardi per iscrivervi alla Nardi. Alla Tommaso Nardi, oltre a seguire le lezioni giornaliere, potete partecipare a dei corsi familiali, chiamati PON. Come quella di letteratura, dove puoi discutere su libri e letti in precedenza. Oppure quello d'inglese, dove potrai migliorare le tue capacità sulla lingua. O quello di tecnologia, dove puoi imparare a codificare tramite il tuo drama scratch. Quindi, se non ti vuoi annoiare, a Nardi ci puoi trovare. E ricorda che non è mai troppo tardi per iscriversi alla Nardi. Se vuoi avere una buona base culturale, la Nardi fa il caso tuo. Qui imparerai sempre più cose nuove, affascinandosi sempre di più allo studio. Cosa aspetti? Iscrivimi! A Nardi una cosa è certa. Di progetti non ne mancano e probabilmente non ne mancheranno mai. Un esempio di progetto è Libriamoci. Un progetto che si basa appunto su libri, cultura e fantasia che si ha nel leggerli. Durante, nel corso di questo progetto, abbiamo avuto l'onore di incontrare e conoscere una scrittrice. E anche di realizzare dei modellini, come per esempio l'Opera di Mendez, dove abbiamo appunto costruito una struttura simile a quella reale e l'abbiamo anche pitturata con le nostre mani. E niente, questa è la mia esperienza. Se volete averne una anche voi, come dice sempre il nostro preside, non è mai troppo tardi per iscriversi alla Nardi. Non sai dove iscrivervi i tuoi figli a scuola? Iscrivili a Tommaso Nardi. Avranno professori veramente bravi e qualificati, pronti a rispiegare e rispiegare gli argomenti. Ogni tanto si organizzano eventi con persone esterne veramente qualificate. Forza e cosa aspetti? Iscrivili i tuoi figli a Tommaso Nardi. Vi aspettiamo!